Sì, d'accordo all'incontro, sai un sacco di cose che non dovresti sapere. Un'emozione che ti scoppia dentro, non stanno a cercare. Io ho il tuo figlio, si scopre che mi è stata a mettere in mezzo e prima ammazzarlo e poi ammazzati. Sono morti che camminano. Se un figlio fa una cosa così, è perché c'è un padre da merda. E stiamo andando incontro proprio. Da cosa? L'incenzo. Era la fine del mondo. Tutto il resto è noia. Solo è noia. Ma noia, noia, noia. Ma 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 noia.